J-AX ha aperto Alphabric il tour per i 25 anni di carriera. Con lui DJ Jad per l'atteso ritorno degli articolo 31. La lunga attesa per J-AX Alphabric è stata ben ripagata. Il primo appuntamento del J-AX 25, live del 15 ottobre è stato un successo. Con questa serie di concerti il rapper milanese festeggia i suoi primi 25 anni di carriera, ripartendo dal Fabric, lì dove tutto era cominciato.Nel corso della serata non sono mancate le sorprese, tra l'apertura con i rapper Zanchi e Grido fratello di J-AX nonché ex membro dei gemelli diversi, il momento con Paola Turci, con cui ha cantato Fakio, e la presenza di altri ospiti quali Destails e il Cile. Ma l'attesa era tutta per un solo uomo DJ Jad e il ritorno degli articolo 31. J-AX Alphabric il ritorno degli articolo 31 La presenza di DJ Jad era stata annunciata qualche settimana fa, ed è forse il motivo principale dei 10 sold out registrati da J-AX in pochissimi giorni. Ma l'effetto è stato in un certo qual modo lo stesso di sorpresa, mista a nostalgia e grande voglia di scatenarsi con le maggiori hit del duo hip hop più amato di fine anni 90 e inizio 2000. Punto nei medli dedicati agli articolo hanno trovato spazio grandi hit come Domani Smetto o La Mia Ragazza Mena ma anche brani meno conosciuti come Due su Due o Un Urlo, tra gli scratch del DJ e l'estesi del pubblico presente. J-AX Alphabric La scaletta del 15 ottobre di seguito La scaletta del primo grande evento Alphabric 1 Medli Rap and Roll, Miss e Mr. Hyde, Acqua nella scuola, Ribelle e Basta 2, Medli Snob, L'uomo col cappello, Vecchia scuola 3, Non è un film 4, Gente che spera 5, Fa più 6, Piccoli per sempre 7, Medli Decadence, Immorale, più Stile 8, Dentro me 9, Altra vita 10, Il bello di essere brutti 11, Uno di quei giorni 12, Medli Italiana, Vorrei ma non posto, Senza pagare 13, Medli Spirale orale, Domani smetto 14, Medli Un Urlo, Non c'è rimedio, La fidanzata, Letting Lover, 203.015, Tranqui Funky 16, Domani 17, Il Funky Tarro 18, La Mia Ragazza Mena 19, L'italiano Medio 20, Appugni col Mondo 21, 2 su 2 22, Oi Maria 23, Intro 24, Maria Salvador 25, Tutto tua madre AX Live Alphabric Tutte le dotete di seguito, Tutte le date di J AX Alphabric di Milano nel 2018 meno lunedì 15 ottobre meno martedì 16 ottobre meno mercoledì 17 ottobre Musica